Pensiero e linguaggio Allora, per capire il rapporto che c'è fra pensiero e linguaggio della specie umana, dobbiamo tenere in considerazione sia i due termini di questa congiunzione, il pensiero da un lato e il linguaggio dall'altro, ma anche e soprattutto la congiunzione, quello che li mette insieme. Secondo la teoria di Vygotsky, un grande psicologo sovietico del Novecento, il piccolo umano, l'infanz, viene al mondo con delle capacità cognitive molto sviluppate, indipendenti dal linguaggio, capacità cognitive che hanno soprattutto il carattere di capacità operative. Il bambino pensa facendo, pensa vedendo, pensa percependo, non c'è una distinzione fra questi due momenti. Il bambino prova ad afferrare un oggetto, l'infanz prova a portarselo alla bocca, prova a spostarsi appena è capace di farlo nell'ambiente. Sono tutte forme, per Vygotsky, di pensiero-azione. Qui è importante tenere insieme pensiero-azione, non pensiero che diventa azione, è un pensiero-azione. Allo stesso tempo, il piccolo umano è dotato di capacità espressive innate. Pensiamo alle grida, al pianto, all'espressione del volto, tutti i modi per stabilire una relazione comunicativa con gli adulti, con cui ha a che fare, innati, sicuramente innati, che quindi non apprende da nessuno e che garantiscono la relazione del piccolo umano con l'ambiente circostante. Quindi all'inizio, secondo Vygotsky, possiamo immaginare una doppia pista, la pista del pensiero-azione da un lato e la pista delle capacità espressive e naturali dall'altro, che corrono parallele. Il punto decisivo per Vygotsky è quando queste due piste si incrociano e si incrociano proprio a partire dalla relazione con gli adulti dell'ambiente sociale in cui si trova a vivere il piccolo umano. Cosa succede? Succede che l'infanz impara, in prima fase, a introiettare gli strumenti espressivi dell'ambiente circostante e quindi a usare, per stabilire una relazione con gli adulti, la lingua che trova nel suo ambiente naturale e quindi la relazione che stabilisce con gli altri non è più soltanto una relazione istintiva, ma è una relazione basata su qualche cosa che il piccolo umano ha appreso e progressivamente apprende. Ma l'aspetto ancora più interessante per Vygotsky è che a un certo punto il piccolo umano comincia a usare i mezzi espressivi sociali, che quindi ha interiorizzato, come mezzi per il proprio stesso pensiero. A questo punto il piccolo umano pensa attraverso i segni della lingua che trova nel suo ambiente sociale. Vygotsky chiama questa forma di pensiero specificamente umana, secondo lui gli animali non umani non hanno questa forma di pensiero, pensiero verbale, dove pensiero verbale vuol dire proprio un pensiero fatto di parole, non che si esprime in parole. Il corpo di questo pensiero è il linguaggio, e meglio ancora la lingua dell'ambiente in cui si trova a vivere il piccolo umano. Che cosa permette questo? Diciamo due conseguenze fondamentali. A questo punto il piccolo umano è capace di pensare in anticipo rispetto all'azione. Se all'inizio abbiamo visto il pensiero coincideva con l'azione, ora attraverso il dialogo verbale, mentale, interiore, il piccolo umano può pensare indipendentemente dall'azione. Si separa, si crea un distacco fra il momento cognitivo e il momento dell'azione. E questo è un cambiamento enorme, perché tutte le conseguenze, tutte le capacità superiori del piccolo umano derivano da questo distacco. La volontà nasce in questo modo. Seconda conseguenza, se il pensiero verbale, se il corpo del pensiero è la lingua dell'ambiente sociale in cui si trova a sviluppare il piccolo umano, è chiaro che lingue diverse avranno una relazione diversa con la capacità cognitiva del piccolo umano. e questo quindi localizza, situa il pensiero umano in una particolare situazione, in un particolare contesto storico-culturale.